Ancora sotto sequestro il porto turistico di L'Acquameno a Ischia. L'ordinanza dello scorso 25 marzo, emessa a sua disposizione della Procura di Napoli, è stata confermata. Il Tribunale del Reesame ha infatti respinto la richiesta di sospensione del provvedimento presentata dalla società che ha gestito il porto negli ultimi anni. Resta chiuso l'ormeggio dell'Isola Verde, che d'estate accoglie oltre 300 unità da di porto, ospitando da sempre gli otto delle più grandi celebrità mondiali. Da diverso tempo continua la battaglia tra comune e gestori privati, accusati di non aver pagato tasse e bollette relative ai servizi erogati a spese del comune. Il municipio di L'Acquameno infatti risulta essere la parte offesa del procedimento di sequestro ed ha presentato nei giorni scorsi documenti che attesterebbero la mancata concessione alle attività di gestione. Il reato contestato è quello di occupazione senza titolo di area demaniale marittima. In particolare, la superficie sequestrata arriva ad un totale di 33.366 metri quadrati, suddivisi tra aree a terra e specchi d'acqua destinati all'ormeggio.